Arthur Schopenhauer è uno dei maggiori pensatori del XIX secolo. Il suo pensiero recupera alcuni elementi dell'illuminismo, della filosofia di Platone, del romanticismo e del cantismo, fondendoli con la suggestione esercitata dalle dottrine orientali, come quella buddista e quella induista. Schopenhauer manifestò per gran parte della sua vita un acuto disagio nei confronti dei contatti umani, un atteggiamento che gli procurò la fama di irriducibile misantropo ed ebbe sempre uno scarso interesse per le vicende politiche dell'epoca. Per Schopenhauer la vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra il dolore e la noia, passando per l'intervallo fugace e per lo più illusorio del piacere e della gioia. La filosofia di Schopenhauer è molto articolata. Nella sua opera giovanile Il mondo come volontà e rappresentazione, che contiene già gran parte del suo pensiero, Schopenhauer sostiene che il mondo è fondamentalmente ciò che ciascuna persona vede. Questo è il suo relativismo. Tramite la sua volontà, nella quale consiste il principio assoluto della realtà, nascosto alla ragione. La sua analisi pessimistica lo porta alla conclusione che i desideri emotivi, i desideri fisici e sessuali, che presto perdono ogni piacere dopo essere stati assecondati e infine divengono insufficienti per una piena felicità, non potranno mai essere soddisfatti e quindi andrebbero limitati se si vuole vivere sereni. La condizione umana è completamente insoddisfacente e quindi estremamente dolorosa. Di conseguenza Schopenhauer esorta l'uomo ad avere uno stile di vita che neghi i desideri, simile agli insegnamenti ascetici dell'induismo, del buddismo, dei padri della chiesa del primo cristianesimo, nonché una morale della compassione. Questo sarebbe l'unico vero modo, anche se difficile, per raggiungere la liberazione definitiva. Sull'esistenza di Dio Schopenhauer è ateo, inoltre non nutre né considerazione né fiducia alcuna nella massa degli esseri umani, fatto che lo conduce alla misantropia. Schopenhauer ha indagato a fondo il mistero dell'amore. Per lui l'amore ha la sua radice solo nell'istinto sessuale, ed è un inganno della natura, il cui unico scopo è la conservazione della specie. Il matrimonio dunque è sempre infelice, perché si preoccupa della generazione futura e non della generazione presente. L'amore è una illusione che persuade l'uomo ingannandolo. Questo discorso si collega anche al cosiddetto velo di Maya, che è la distinzione kantiana tra fenomeno, cioè la cosa come ci appare, e il noumeno, vale a dire la cosa in sé. Dunque per Schopenhauer la realtà si nasconde dietro l'inganno e dietro l'illusione. Ma solo il filosofo, che è capace di interrogarsi sull'essenza della vita, secondo Schopenhauer, può riuscire a squarciare il velo di Maya e quindi a superare l'apparenza. Schopenhauer riteneva che la nostra mente filtrasse la realtà attraverso le forme a priori. La realtà, nel momento in cui l'uomo la osserva, subisce una deformazione e il fenomeno non è altro che una ingannevole rappresentazione che esiste unicamente nella nostra coscienza, ma non costituisce la verità. Schopenhauer arriverà a sostenere che il mondo è la mia rappresentazione e la vita altro non è che un sogno. L'unico modo per rompere l'inganno del fenomeno è, secondo Schopenhauer, la possibilità dell'uomo di viversi non come intelletto o come conoscenza, ma come corpo. L'uomo, infatti, nel momento in cui non si rivolge alla realtà esterna utilizzando spazio, tempo e causalità con cui individuiamo e distinguiamo le cose del mondo, cioè il fenomeno, scopre che dentro di sé risiede la sua vera essenza, la sua cosa in sé, cioè la volontà di vivere. E si tratta di un impulso impellente a cui nessuno può resistere, che spinge a resistere ed esistere e agire. Questa volontà è il umeno, ovvero l'essenza dell'intera realtà. Ma la conclusione di Schopenhauer è una cruda verità. Gli esseri del mondo non agiscono per nessuno scopo, non c'è senso nelle nostre azioni se non il volere, cioè la volontà, per continuare appunto a vivere. Secondo Schopenhauer, riconoscere che la vera essenza della realtà è la volontà, equivale a dire che la vita è dolore. La vita è una sofferenza perenne. Volere significa infatti desiderare, e il desiderio è mancanza di qualcosa, cioè vuoto e dolore. Il piacere rappresenta solo una momentanea cessazione del dolore, il quale sopraggiunge nuovamente non appena si è temporaneamente appagati. Nessun oggetto del volere, una volta conseguito, può dare appagamento durevole. Tra il dolore e il piacere si colloca la noia, che è la situazione in cui viene a trovarsi l'uomo nel momento in cui placa temporaneamente i suoi desideri. Il pessimismo di Schopenhauer è quindi un pessimismo cosmico, perché è universale e interessa ogni creatura. L'uomo avverte maggiormente il dolore in quanto è soltanto più consapevole e dunque più ricettivo nei confronti dei propri desideri e dei dolori conseguenti. L'unico fine della natura sembra essere quello di continuare a perpetuare la vita e dunque il dolore. L'individuo non è altro che uno strumento al servizio della specie, cioè questo è particolarmente evidente nel fine dell'amore, che non è il piacere, ma il fine dell'amore non è neanche la felicità dell'uomo, bensì è l'accoppiamento e la riproduzione. Non esiste amore senza sessualità. E infatti per Schopenhauer ogni innamoramento, per quanto è etereo voglia apparire, affonda sempre le sue radici nell'istinto sessuale. A questo punto l'uomo cerca di celare a se stesso la sofferenza insita nella propria vita attraverso alcune bugie, attraverso alcuni sotterfugi. E attraverso l'arte l'uomo contempla la vita anziché essere immerso nei suoi bisogni. Questa è la funzione dell'arte. L'arte risulta essere liberatrice, in particolare la musica, che è catartica in quanto ci offre una disinteressata contemplazione della vita e non una partecipazione vera e propria. Ma la funzione positiva dell'arte è passeggera, in quanto offre all'uomo una momentanea pausa e offre un estraneamento dalla vita. L'unica vera liberazione dalla sofferenza è estirpare la volontà di vivere, cioè il desiderio di esistere e di volere. In questo consiste l'ascessi, che comporta la castità, il digiuno, la povertà, il sacrificio e l'automortificazione. Solo con l'ascessi l'uomo può raggiungere il nirvana, cioè sperimentando una negazione del mondo e dei bisogni, e quindi della volontà individuale. La liberazione, quindi, la liberazione completa consiste nel raggiungimento del nirvana, cioè la negazione del mondo. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche. Per cui, se volete richiedermi una consulenza, dovete contattarmi su WhatsApp al numero 338 1692 473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando nome e cognome e orari preferiti. In bocca al lupo a tutti, arrivederci.